E vediamo. Quale potrebbe essere? Prossimo pick! Kyle full letalità ma con il mana 1 e primo item. Ma che merda è sta roba? Ma no! Ma tra tutti i pick che ci sono, ma ce ne sono di più belli. E' idea una crea una chat sul server disco dove si crea il meme su di te? Ah, ma ce l'abbiamo già! Eccola qua. Cugino fanart. Ne hanno fatti un po'. Ma l'ultimo che abbiamo fatto è stato questo. Da Il Grande Warro. Va bene. Eccola questa. Mamma mia! Mi condividerebbe questa bill, cugino? Mi hanno dato il link. Bravo Grande Warro. Top numero 1. Benissimo! Siete pronti a vedere Kyle Letality? L'altra scuola 30 secondi. Come? Un po' di casino. Benissimo. Me ne vado, me ne vado, va benissimo. Questo è perché non ho il cazzo di barrier. Aspetta. Se avesse avuto il barrier era insalvato. Mannaggia il barrier. Ho fatto un errore molto brutto. Ok, si vede che sono un po' stanco, eh. Vabbè. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Warro mi vede, mi ulta. Che purtroppo non ce l'ho la... Non ce l'ho la... Purtroppo non ce l'avevo la ulti qua a sto giro, quindi non potevo batterlo. Però ci ho provato. Non so se avete visto, ragazzi. L'ho quasi shottato. Ok. Oh! È stato shottato. Avete visto, ragazzi? Mai avere paura. Va bene. Due attacchi, tre anzi, dai. Bene. Prossima volta faremo una Kyle Esplody Build un pochino più efficiente, partiamo bene dall'inizio, va bene. Però comunque ci sta, avete visto? È fattibile. Ovviamente più forte con la fretta build in top lane, però va bene lo stesso. Tipo Renekton support letality, niente crit, solo con Lector. Come Renekton support letality, niente crit, solo con Lector. E perché questo ragazzo ha Twitch slash cugino rap nella cosa? Sono io. Ragazzi, comunque, sono letto di annunciarvi che Pentakill è ancora primo in Challenger. Ragazzi, non tocco quest'account da più di un mese, sono ancora primo in Challenger con Pentakill e con Pentakill con champion diversi. Anche Pentakill in generale. Sono ancora primo. Quindi, nonostante non stia facendo Pentakill da un mese su quest'account, ancora manteniamo il nostro primato. Renekton support? Yes. I will be the best support. You will ever have. Ok. Se l'aveva detto no, però quando tu glielo dici con così tanta grinta, loro non possono dire no. Ragazzi, io non so se faccio Renekton full letality come l'ha chiesto il pick, eh. Forse lo faccio con l'esplode build, adesso vediamo. Dipende da come... Non voglio, non voglio fare brutta figura. Adesso guarda, mi stanno pure guardando loro. Adesso mi giudicano loro, capite? Mi giudicano. Quindi non posso fare schifo. Se hai due oggetti, dopo che ho fatto il collector, vedo che stiamo andando bene, posso provare full letality. Se no, faccio l'esplode build. Vedete, ragazzi. Non ha detto no, non fare super, però tu glielo scrivi in caps, io sarò il migliore. E loro non possono fare niente. Vado un attimo in bagno. Faccio con la sedia. Ma tra poco. Molto presto. Domani sera, giovedì, potrebbero tornare le due con la cavalla. A dopo. Il tutto è capitale. Anna, mi raccomando, papaya, crescere, femminile e banana. E forse è roba. Minchia, il codice si stava per girare la sedia. Porca puttana, l'ho fermata. Meno male che non l'hanno visto. Non si fa sapere. È un segreto del canale. Oh no, non sono questo. Devo stare su per... No. Non è andato in bagno, è andato a prendere altre brioche. Sì. Va bene. Ragazzi. Cambio del titolo della live codice. Renekton support. E nuova bet. Grazie. Quanti assist farà? Comunque, Samir, sì? Poi ci mettiamo d'accordo per domani. Mi scrivi su Telegram? Minion in azione. Mi scrivi su Telegram? Eh, perché adesso sono qua. Poi alla fine del live me lo dimentico di certo. Quindi scrivimi prima tu. Così poi me lo ricordo. Ciao all'Elite, grazie della sub e benvenuto. Dopo ritorneranno i maffi. Non lo so, per adesso i maffi non ci sono. Che merda, adesso. Non c'è nessun indizio, raga. Il mio di che è una misforto con la cometa. No, perché? Guardi le botte. Via. Io sono il miglior super che c'è. Io sono il miglior support. Attaccala. Non fammi un attacco, vabbè, non capustanami. Perché ti fermi? Non mi rama qui. Caputtana. Ciao, orso marsupiano. Grazie anche a te per la sub. Bentornato per il secondo me. Siamo sicuri che sarà un support. Lissin bilaico potrebbe essere come Lissin. Devo aiutarli. Devo aiutare la mia squadra. Beh. Abbiamo Katalina e Mordekaiser, ragazzi. Direi che si possono aiutare da soli. Un allerato è stato ucciso. Prospettive, college, sì. Quello era un attacco base molto sentito. Cioè, quando tu sei sicuro di quello che fai, anche se non è possibile per le leggi della fisica, la fai comunque. È la legge della volontà. Ecco qua. Sarò il miglior support. Arriva qualcuno? Non abbiamo paura. Noi siamo in due. Eh, che cazzo. Scappi. Vedi? Si va incontro al pericolo. Si va incontro alla paura. Noi possiamo essere la paura. Visto? Io sono la sua paura. Mostriamogli l'aggressività. E loro ci temeranno per tutta la vita. Sarò il tuo support. Ah, per te, Lilia. Questo mio. Oh, benissimo. Partono bellissimi e carinissimi messaggini di amore da parte di Katarina verso il nostro Yesu or nemico. Ciao Kilsa, me l'è arrivato. Tornando. Sarò il miglior support. Ok, ok, ok. Fermiamo questo. Come cazzo fa? Mamma mia! Questo coccodrillo. È una potenza unica. Sentite che risata. Scusa. Farma lì però gli altri, no? Ne ha missati tre. L'appassionante li farmo io. Un nemico è stato ucciso. Che support, ragazzi. Non ti preoccupare, amica Miss Fortune. Non ti faranno del male se sono morti. Un nemico è stato ucciso. Che support. Ehm, ma! Ma! Dai, stavo mangiando la mia brioche! Nessuno. Rap. Nuova categoria di support. Effettivamente, è vero. Abbiamo inventato stasera un nuovo tipo di support. I support che ammazzano gli altri. E alla fine, se ci pensate bene, cioè, ci sono support che si limitano a... Io aiuto te, così li ammazzi. Ma perché aiutare i propri compagni quando puoi ucciderle tu al posto loro? Eh. Vedi a mangiare le brioche piene di scam? No, ragazzi, anche io ho fame. Cioè, io... C'è un atto qua. Avete visto? Gli ho lasciato anche una kill adesso. Sono bravissimo. Meglio flashare, brava. Non potevo andare addosso. Però, vedete? Io sapevo che non potevo colpirla. Ma continuo a inseguirla. Le metto ansia, pressione in testa, no? È tutta psicologia. Lei aveva paura, ha flashato. Anche se io non potevo saltarla in testa. Ma lei non lo poteva sapere che non potevo saltarla in testa, no? Lo sapete solo voi. I vostri amici non lo sanno niente. La tattica. Adesso lei mi può fare solo attacchi base, quindi è innocua. E andiamo via. Se mi fa la Q... Ma la fa... Non è guardato. Andiamo. No, ragazzi. Non il messaggio di Ficus. Ficus, il tuo trend. Salti uno step del tuo team così ha un alleato in più fiddato. Esatto. Saltiamo uno step noi, capite? E così siamo... Siamo cinque carry invece di essere quattro carry e uno che li aiuta. Eh. Fate questa qua. Che fai, pazza? Solo perché avevo l'Hitbox più grande, Morgana. Oh, porca. Sono arrivati dei Bits. Perché voleva sapere della mia supportaggine? Grandissimo rep, pipipi pipipipipipipipipipipipipipipi. Come mai bannato? Grazie Ok Hai visto Miss Fortune come ti sto supportando bene? Let me farm bot Ma io non ho fatto niente A me Catalina poiché si lamenta Ma che cazzo c'è Si Mordekaiser I'm the best support I help my team Mi sforzo Guarda come si diverte mi sforzo con la cometina Mi sforzo e non ci provo Guarda stanno comunicando alle forze di recall Questo è Alphabeto Morse E questi qua invece Alphabeto Morse Ok Va bene va bene Il miglior super Più della DC Il codice morte Va bene E' stata molto molto bella questa Si sta prendendo anche tutto il farm No 39 ne ho la metà Io lo prendo perché ho l'oggetto da support Non capite? Vedete che non l'ha preso il carretto Porca puttana Eh? Io mi prendo quello che non prende lei Ecco qua Io la aiuto Si picchiate me Non la mia misfortune Grazie mille Valerio Lasso del Prime Ben arrivato Oh no Devo aiutarli Nooo Don't touch My team Love you Renekton I will defend you forever Best supporter Mamma mia ragazzi L'avevo detto Che cosa? Nessuno no Mentre viene attaccato Sì sì Questo Renekton è troppo caldo Miglior se porta Mentre viene attaccato Ero il che scrive in chat Intanto lo dicevo anche a voce Molto bene Quante azioni per minuto puoi fare rap? 69.420 Così questo Renekton è molto forte ragazzi Avete visto? Loro sono felici Perché sono il loro best supporter I will touch your brother Nasus No Vabbè ma tanto se non sbaglio Renekton è in guerra con Nasus Quindi Cioè loro sono felici Di avere un support Che sta uccidendo tutti Veritatissima Grazie Valerio Ok Guardateli lì Devo aiutarli Non se l'aspetta Che qui dietro C'è il support Io sarò il support Della mia squadra Che c'è? Legend Molto bene Molto bene Gira Nekton No No Benissimo Ho aiutato la mia Katarina Aiuto Katarina Distruggendo la torre La mossa del support Novia I helped you my friend Ok My GG Let me farm Yes Help me LOL Cosa ti sta dicendo? Ok I helped you Esplode mille migliori in assoluto Guardate come un riccio Quando esplodono Hai visto Frank? Anch'io Rapp inventa un nuovo tipo di support Il support che distrugge tutti In realtà come vedete Sta funzionando molto bene Guardate la D-Carry Cioè 3-3-9 Non è mica uno score brutto Lentanto continua a scalare Esplosa Non vi darà più fastidio Aiuta Alleati Quante cazzo di world ci sono qua in giro? Benissimo Benissimo Bravissima Katarina Vieni il carretto Fa Q Ma come? Te l'ho dato all'oggetto da support Ma l'hai preso? Ma perché mi manda a fanculo? Guarda L'hai presa anche questa Fu qui I have soup item You took money too Don't worry I know my job Love you Ecco Prima mi manda a fanculo E poi mi ama Vabbè Un po' bipolare Questi qua Ok Ok Voglio un saluto Tu Fa Q Hai lo più Oh no Arrivo ad aiutarvi Sto giungendo Caputana Mi hanno fermato Mi dispiace team Ci ho provato Non vi infastidiranno Questi lupi Ci penso io Non vi faranno più del male Ehi ti Adesso mi odia Mamma mia Le rotazioni di questo Renekton Mi odia ma con passione Vabbè almeno Sentite come urla Questo Renekton Quando è felice Quando aiuta i suoi alleati Ah Il mio aiuto qui È finito Facendo Polly Knight No Ecco qua Io sono il support Di questa squadra Bam Oh è sparito qualcuno Che danni Puff La gente non c'è più Attenti al support Support dip Mi ha ucciso Morgana Watch one shot Renekton Ok I watch you Vogliono essere guardati da me Non si sa perché Vogliono la mia attenzione You see Oh gu Va bene Non si sa per quale motivo Cosa vogliono da me Va bene ragazzi Avevamo Nel pick c'era scritto Che non dovevo fare critico Ma Non si può Non fare l'esplode build E quindi Facciamola Arrivo ad aiutarti Non si può L'eal per poi restare fermi Il flash per poi restare fermi Il pass indietro per poi restare e tornare indietro Benissimo Ma la kill è stata fatta Good job ADC I saw you Very good Non è vero Ma non importa Probabilmente quello che volete voi Ma già Ciao Framont Grazie mille del quarto mese Sì effettivamente voi avete proposto Quello che volevate voi Però faccio io Alla fine Perché sono il support Devo aiutare la mia squadra Ecco Aiutati C'erano dei nemici qua Non mi ricordo Ho questo problema di memoria Ogni tanto ne soppro I need to farm for yas Vaffanculo la sua ulti Sorry Team Kindred Killed me I failed this time Love you Renekton No problem No problem Come siete amici dei cordiosi Grazie Thank you You are really friendly Onestamente Ogni tanto proponete dello stair Che va un po' corretto Siamo che serve una serie Un'evoluzione Il propone un pick Poi proponete le cose E poi io le correggo Va bene Vabbè Was that soon For sette fucking minute Io vivo per le interazioni di Raph Con i giocatori Ti piacciono molto Ovviamente sono molto divertenti Queste partite You are very friendly Mamma mia Well I love you Ancora Guardate Dopo 20 secondi Sentiva ancora Il bisogno di ridirlo Il suo amore È durato più di 20 secondi Ok Oddio Ragazzi Troppo Io non ci vado Troppa paura Fai sembrare Allora un gioco divertente Quando in realtà Il gioco pregiore Che sia stato mai creato Vabbè Il mio compito È farlo sembrare divertente Non ti preoccupare Non ti farà del danno 25 eliminazioni Effettivamente Sì Tutto in sta partita Tra l'altro Noi proponiamo Poi Raph Per seconda della proposta Giusto al pick Esatto Molto bene Molto bene Non vi darà più problemi Questa torre Nemmeno questa Kindred Oh che cazzo è Che fa tutto questo danno Asagi Ho sentito un Asagi Mamma mia È troppo forte Quello L'Asagi ha un potere superiore Come affrontare un Asagi Ma che cazzo Succede qua Vai 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 Minchia Cioè mi hanno stumato al muro Mentre ero in volo Cioè Non so Ok Andiamo ad aiutare la mia squadra Hanno bisogno di me Eccomi qua È arrivato il support È esplosa con una I love to support my team Molto bene Certo che fare support Penso che sia molto divertente Come content I love you Tant'amore Devo l'assist Ma non ce l'ho fatta Tanto io ragazzi Prendo io i danni per voi Siete la mia squadra Ecco qua Non vi preoccupate Non vi daranno più problemi Mamma mia Pentakill Middiff Ecco Mi chianto 25 atto Me ne sono Rappo il nuovo tipo di support Rappo il nuovo tipo di support Che consiste nel diventare Il carry della partita Esatto Si vince la bet Bravi Avete visto È un po' come quella di prima Onoriamo Liglia Che mi ha dimostrato tanto amore Renekton support No E io I will be the best support Vediamo chi mi ha onorato Liglia E Miss Fortune Thank you team I love you Io mi carico la vita Andrei ben meglio Ho amato Supportare questa squadra Io e Miss Fortune Abbiamo fatto tantissimi danni Guardate qua L'unione della botling Molto bene